ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video della tutto tech video velocissimo per avvertirvi di nuove offerte in casa amazon trovate tutte le offerte qui sotto in descrizione allora ho visto così velocemente che ci sono in offerta tutti gli ecodot gli eco show e se non erro c'è anche le coab in offerta adesso vado a verificare bene vi metto qui sotto tutti i link diciamo che questo è il momento giusto per poter effettuare l'acquisto e poter entrare nel fantastico mondo del nostro assistente vocale quindi non perdete tempo scegliete l'eco che più vi soddisfa che più vi serve e vi aspetto anche a voi poi per tutti i tutorial che ci sono qui sul canale vi trovate di qualsiasi prodotto tranne dell'eco hardware vabbè bene ragazzi per questo video è tutto buoni acquisti e ci vediamo alla prossima ciao ciao